Cosa pensa dell'impegno della Cida e dei manager italiani per il rilancio del Paese e di questo momento di confronto con i candidati alle elezioni? Credo che sia molto importante perché proprio per non seguire il nome del movimento, fare per fermare il declino, credo che sia il momento opportuno di cominciare a parlarci e di discutere di cose veramente serie che senza fare tanta fuffa, scusi il termine, per toccare i vari argomenti, quindi credo che sia assolutamente positivo questo momento. In quale ambito ritiene che le organizzazioni dei manager possano maggiormente contribuire a migliorare la politica del Paese? Sicuramente i manager danno un grosso valore aggiunto a tutte le attività economiche del Paese e credo che l'impegno nei vari settori assolutamente della produzione, della liberalizzazione e di concedersi e soprattutto anche l'utilizzo, uso questo termine forse improprio, anche nello sviluppo delle idee per quanto riguarda la riforma dell'università, della scuola, che ci può servire assolutamente per raggiungere gli obiettivi assolutamente importanti. Considerando che uno dei nostri punti è anche centrato sulla meritocrazia, credo che assolutamente questo è un elemento fondamentale per il nostro sviluppo. Cosa pensa del programma politico Cida, delle priorità e delle azioni individuate? Sicuramente ci sono molti punti, non per fare la promozione al nostro movimento, che li vedo anche assolutamente in linea con quelle che sono le nostre idee di sviluppo e proprio per far uscire da questo pantano dove l'Italia si è cacciata e se non facciamo veramente un momento di svolta non andiamo da nessuna parte. Alla luce della sua esperienza, su quale delle priorità del programma Cida intende impegnarsi maggiormente nel corso del suo mandato elettivo e in che modo ritiene si potrà misurare il risultato di tale impegno? Dette che i punti fondamentali della nostra attività e del nostro movimento si basano innanzitutto sulla riduzione della spesa. Con la riduzione della spesa possiamo lavorare benissimo su quelle che sono l'eliminazione o la ristrutturazione dell'IRAP, dell'IRPEF, e anche per quanto riguarda l'IVA, non cercare di portarla sempre, aumentarla, oppure l'altra cosa fondamentale, il momento del pagamento dell'IVA per cassa e non come avviene adesso. Questo può essere dei punti assolutamente importanti, non solo per migliorare e incentivare l'attività delle imprese, ma è una conseguenza, non da poco, il fatto che migliora anche il reddito anche dei lavoratori.